Non mi dimenticherò mai il numero 3875. Sai che cos'è? È l'altezza in piedi dell'aeroporto di Entebbe. Stavamo atterrando Entebbe con il DC-8, no? E io mi ricordo che poco prima avevo visto la cartina, avevo visto la pista. Un bel momento non so chi dice, siamo a 3600 piedi, perché tutti guardavano fuori. Dentro il motore accendi le luci, abbiamo visto l'acqua. Non so, cinque secondi dopo, tre secondi dopo eravamo dentro e ci siamo accorti di una cosa che anche un imbecille quando sale su un aeroplano deve sapere. Che se vedi delle luci parallele convergenti vuol dire che sei più alto di loro, se le vedi divergenti sei più basso di loro. erano divergenti.